ed eccomi qui allora volevo mostrarvi un pochino le cosine che sono arrivate molto random nell'ultimo tempo da wish allora partiamo con questo che è uno squishy a cagnolino delizioso e poi è fatto benissimo e anche bello grandino mi piace un sacco l'ho aspettato un bel po è però stare è arrivato quindi ok poi questo che l'avevo visto è un funghetto un semplice funghettino in plastica ma guardatelo poi alla ecco perché dovrebbe diventare di vari color adesso aspettiamo qualche secondo stupendo carino mi piaceva perché aveva una faccia simpatica è carino poi tutto funziona anche quindi wow altra cosa ci sono sopra vi voglio mostrare questa che è una federa per cuscina questo è molto a tema natalizio vabbè è arrivata un po tardi ma per l'anno prossimo di cuscina allora guardatela cioè adesso non so come mostrarvela però è fatta benissimo oltretutto alla cerniera da qualche parte eccola qui e le adoro se per caso vi piacciono le federe da mettere nei cuscini decorativi fatemelo sapere perché ne sto ordinando varie da wish per le varie stagioni e ve le farci vedere volentieri appena arrivano tutte facciamo un video dedicato solo per questo comunque questa qui ragazzi un euro e 95 in totale è bellissima ultima cosa che vi voglio mostrare sono questi che ho preso proprio per caso e sono i dischetti struccanti quelli in tessuto cioè ne ho diversi di varie marche anche molto più costosi perché questo è un euro e 95 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 sono belli grandi più grandi e poi sono di un buon tessuto certo non sono quelli in fibra di bambù e tutto però da mettere con detergente puoi mettere in lavatrice sono anche un po imbottitini dopo aver preso l'altro animaletto non potevo farmi scappare anche questa volpacchiotta carinissima che bellina poi e oltretutto cambia anche la luce deliziosa e mi piace un sacco a mettere assieme all'altra fa tanta luce o mai ho tutti i luminari semplicemente se non è delizioso poi io ho una leggera passione per pikachu ma questo è fatto benissimo smaltato con la sua collana è questo assolutamente delizioso che cosa interessanti potrei avere per voi intanto questa questa collana con il pinguino cioè stupenda semplicemente stupenda bellissima bella anche come è fatta la collana mi piace assolutamente allora vi mostro per prime queste che sono delle formine per i biscotti ed è a tema natalizio che è peccato che sono arrivate un pochino in ritardo perché volevo facci delle decorazioni ma vengono buone per l'anno prossimo comunque sono il lombino il pan di zenzero il pupazzo di neve la palla di natale e l'alberello e sono carine perché sono formine così e poi c'è il pulsante per tirarle fuori ed è ci faremo una decorazione a questo punto l'anno prossimo e poi vi voglio mostrare gli stickers di snoopy cioè sono bellissimi guardate uno sono grandi più grandi prendiamo un altro eccolo qua e poi sono tutti diversi aspettate che proviamo a sfogliarli dovrebbe essere 25 ma sono grandi sono bellissimi e sono arrivati anche molto velocemente poi sono belli spessi quindi ci si possono fare delle cose ma io li attaccherò perché sono deliziosi ci sono quelli a tema natalizio quelli classici questo tipo san valentino festa di ringraziamento potrebbe essere autunno questo halloween bellissimo anche questo inverno sono un po per tutte le stagioni quindi i classici o anche questo natalizio sono bellissime 25 ma sono davvero grandi e questo è l'ultimo eccolo qua e questi sono tutti ovviamente questi a un euro ed è anche questi a un euro dunque altra cosa che è arrivata e dico finalmente perché l'aspettavo da mesi ormai ci avevo proprio perso le speranze però per un euro non volevo aprire un reclamo e sono queste adesso ve li mostro ecco qua allora sono delle in teoria formine da biscotto e a tema halloween che sono carine perché dopo aver fatto la forma deve schiacciare e viene fuori questo comunque ha il cappello da strega poi abbiamo la casetta infestata bellina poi il fantasma e l'ultimo è ovviamente la zucca ok ormai sarà volevo farci una cosa per halloween ma lo facciamo il prossimo halloween tanto sicuramente avrò delle idee e anche questa è una cosa molto carina sempre allora vediamo che altre cosine sono arrivate prima di tutto questa collana che mi piace tantissimo con l'albero il ciondolo lo adoro è stupendo e la collana è molto semplice però è il ciondolo che wow è un po pesante però mi piace tantissimo poi questi aspettavo da un sciacco ma ormai natale è passato direi che lo usiamo l'anno prossimo erano due pacchetti divisi però questo babbo natale eccolo fatto davvero bene piccino però bello e poi la renda la renda col pacchetto stupenda anche questa penso che ci farò una decorazione o qualcosa ma in questo caso l'anno prossimo e comunque se ti è piaciuto il video ti sono piaciute queste spacchettamento un po a pezzi mi raccomando di fammelo sapere con un commento e noi ci vediamo alla prossima ciao ehi sono qui ciao ti sei ricordato di mettere un commentino mi raccomando mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale solo così potrei ricevere un regalino da me lo sai che estraggo ogni mese ciao